come lo faccio bene ma come faccio ad avere quel suono ma come la canto questa canzone probabilmente tutti i cantanti se lo sono chiesto almeno una volta e questa volta chiedermelo è stata una mia allieva allora innanzitutto c'è da dire che bisognerebbe essere originali per non cadere nell'imitazione spudurata ma tu lo sai chi sei hai una certa padronanza tecnica del tuo strumento per riuscire a far trasparire le tue emozioni e la tua originalità se la risposta è no allora mi dispiace ma dovrai riempire la tua cassetta degli attrezzi ovvero dovrai imparare quante più tecniche possibili per variare la tua interpretazione in base alla necessità tipo se un pezzo è rock ma tu sei abituato a fare solo musica moscia non è che lo puoi cantare moscio cioè devi farlo grintoso probabilmente avrai bisogno di tecniche come il belting il carving se non addirittura lo screaming altrimenti lo riarrangi ma non sarà più un pezzo rock altrimenti lo riarrangi ma non sarà più un pezzo rock altrimenti lo riarrangi ma non sarà più un pezzo